La missione della milizia volontaria sicurezza nazionale in Germania. All'aeroporto di Düsseldorf il capo di stato maggiore generale russo, accompagnato dallo Stabchef Lutze, ha ricevuto l'omaggio del comandante alla squadriglia da caccia intitolata l'eroe nazionalsocialista Erstwessel, i cui apparecchi vennero regalati al Führer dalle squadre d'assalto italiane e che hanno svolto perfette esercitazioni aeree in onore dell'ospite. Grazie Grazie